Il Ronaldo è stato 3 milioni in campo oggi, nel 94, mi sembra quasi neanche più un ragazzino, perché si muove, va, lotta, quindi adesso è un momento bello per noi. Adesso dobbiamo veramente provare, come abbiamo detto a settimana, a prendere un punto in classifica, perché c'è un posto in cui in classifica non ci fanno, non ci fanno.